Di giocare inizialmente non me l'aspettavo, poi per condizioni fisiche pure di Sales che non stava molto bene, poi sì adesso me l'aspettavo sì. A destra non è il ruolo mio, però mi hanno adattato lì e diciamo che sto cercando di adattarmi nel migliore dei modi. Cerco di fare il mio il meglio possibile e do il meglio. Se il mister ritiene che do meglio lì, per me va benissimo. Sì sono stato adottato sì col Bassano, poi in Coppa Italia però mi hanno messo centrale. Ripeto, non è facile stare fuori, però quando vieni chiamato in causa cerchi di dare il meglio. Abbiamo fatto una buona prestazione tutti, l'avevamo preparata bene, cercavamo di giocare, abbiamo creato, perché sinceramente di occasioni di loro nitide non me le ricordo, quindi alla fine non è che abbiamo rischiato chissà cosa. Purtroppo non facciamo altro che pensare a questo episodio che magari potevamo avere due punti in più adesso. Non è un periodo molto bello, ci sono un sacco di difficoltà, problematiche e noi per quanto riguarda il gruppo di squadra cerchiamo comunque di rialzarci sempre. Magari al pubblico non può apparire, ma noi cerchiamo comunque di dare sempre il massimo e secondo me ne riusciremo fuori da questo periodo brutto. Ogni partita è quello. Io in allenamento ho sempre dato il massimo, dall'inizio ad oggi, poi non è tutto servito nel calcio. Ripeto, come ho detto prima, nel momento in cui uno viene chiamato in causa bisogna farsi trovare pronto, perché quella è l'unica chance che uno ha.